Bentornati ragazzi, scusate il casino dietro, oggi come vi ho detto già nel mio gruppo Telegram che vi lascio sempre qui sotto in descrizione, vi porto delle tattiche che in questo momento sono OP di questo modulo che veramente ragazzi a me mi ha fatto fare un salto di qualità immenso, io spero che questo modulo vi possa piacere tanto perché credetemi davvero davvero interessante, le tattiche c'è un po' diciamo masticato su tanti giorni per capire un po' le tattiche diciamo un po' più adeguate a questo modulo e mi son trovato bene, alla fine ho trovato una quadra, io vi faccio il video, vi lascio giustamente il video per farvi capire il tutto e spero che commentate con un aggiornamento riguardo a queste tattiche su come vi trovate o comunque se avete qualche difficoltà in modo che vi possa aiutare a migliorare ancora un po' di più e niente ragazzi io vi lascio il video, un bacio da Sibe bella guys eccoci qua ragazzi come detto dall'intro oggi vi mostrerò questo nuovo modulo con delle tattiche e delle istruzioni davvero devastanti per questa squadra ovviamente dovete sempre calcolare che in base ai giocatori che avete dovete cambiare le istruzioni perché non tutti abbiamo la mia stessa squadra, c'è addirittura chi ce l'ha più forte o chi ce l'ha un po' più scarsa allora innanzitutto andiamo su, un attimo perché qua non mi fa fare una cosa ok andiamo su tattiche personalizzate io l'ho messo come offensivo il 4-4-2 come potete vedere ho messo stile difesa equilibrato ampiezza 50 in modo che la squadra non sia troppo larga profondità 65 perché ho notato che mettere come fanno tutti i 71 si rischia molto un sbilanciamento della squadra io ho optato per 65 perché mi ritrovo davvero bene e quindi vi consiglio questo costruzione e manovra messo equilibrato e creazione e occasione passaggi diretti in modo che gli attaccanti che abbiamo un po' più veloci risultano un po' più diciamo incisivi nella costruzione d'attacco come ampiezza ho messo 55 i giocatori in aria sono 1,2,3,4,5,6,7 angoli 3 e punizione 1 qua vi faccio vedere come ho messo la mia squadra la casetta 4-1 è in punta vi annuncio già che la casetta è solo un rimpiazzo temporaneo appena avrò crediti lo prenderò qualcun altro di più forte esterno sinistro sono Maximen esterno destro è Bernardo Silva il mio centrocampo non difende molto ma è costituito da Musiala e Cantè in difesa vabbè Cordoba Blanca centrali Cafu e Guardiola Tarzini e noi io rimporto andiamo per le istruzioni incominciamo dal terzino destro io ho messo lui che è un po' più offensivo è anche un po' più forte partecipa all'attacco tutto il resto è equilibrato diciamo predefinito invece al terzino sinistro che è un po' più difensivo ho lasciato tutto di base centrocampista più difensivo ho messo il resto dietro in attacco copertura a centro e attualmente lo sto usando anche con Musiala che è un po' più offensivo ma volendo si può lasciare qua equilibrato esterno sinistro taglia dentro inserisci te le spalle per San Maxi Man esterno destro per Bernardo Silva gioca largo inserisci te le spalle in trenare per il cross perché ho messo in trenare per il cross Bernardo Silva non a San Maxi Man perché Bernardo Silva ovviamente ha più piedi quindi ha più possibilità di fare gol poi soprattutto tutta questa nuova carta che con R1 è davvero devastante credetemi attaccante di destra rimani centrale inserisci te le spalle e tutto il resto predefinito e attaccante di sinistra solo rimani centrale in modo che faccia un po' come si sente lui in base alla situazione che attacchiamo io ragazzi vi consiglio fortemente di poi andare sempre a giocare tanto sulla profondità se non vi trovate bene o comunque cambiare le istruzioni tipo Bernardo Silva si può mettere anche solo taglia dentro visto che ha tanti piedi e invece mettere a lui che è un po' più giocoliere e ha bisogno di spazio giocare largo inserisci te le spalle come potete vedere ho appena cambiato giusto per voi mi raccomando ragazzi se avete dei dubbi sui giocatori cioè potete scrivermi sul gruppo Telegram addirittura anche nei commenti i vostri giocatori io vi posso dire anche un po' più o meno su che tattiche scusatemi su che istruzioni mettere per essere un po' più decisiva perché come vi ho detto ognuno ha la sua squadra quindi volendo mi mandate la vostra formazione sul gruppo Telegram o me la dite anche solo scrivendola nei commenti del video e io vi indico le istruzioni più adatte ai giocatori in modo da fare una squadra più equilibrata perché quest'anno qua è fondamentale non essere troppo scoperti perché diciamo che far gol lo si fa perché tanto ormai non è un grande gioco come ormai si è saputo dai grandi streamer che è ormai un gioco morto però il problema è tanto difendere quindi è inutile andare a mettere come qua 71 di profondità che non serve assolutamente a niente andiamo a mettere un 65 o 60 o 55 io spero che questo video vi sia piaciuto e fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate io vi auguro un buon proseguimento un bacio da Sibe be' ragazzi